La persona vive 27.375 giorni. È tutto ciò che avremo. Volevamo solo farvi un saluto. Posso essere molto affascinante. Affascinami. Va bene. Che ne dici? Così può andare bene. No, così è ancora peggio. Firmati. Ti prego, basta. Brutta idea per un primo appuntamento. Questo è un appuntamento? No. Vieni a vivere qui. Ti butto fuori se fai schifo come coinquilino. Jen, che uomo. Sì, è bravo. Potrei servirlo nel mio ristorante. Alziamoci, chef. Ordine in arrivo. Non sapevo quanto potessi amare fino al giorno in cui ho incontrato te. E la cosa che più desidero al mondo è che tu diventi mia moglie. Voglio questo il giorno del nostro matrimonio. Sol! Se ci danno brutte notizie prendiamo un cane. Non pensarlo neanche. Saranno buone notizie. È nostro. Hanno trovato un cancro ed è diffuso. Non ci è rimasto molto tempo. No! No! No, 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 no! E se lo annullassimo? Il matrimonio? È che sembra davvero troppo. Sapevamo che sarebbe stata dura. Io ci sono dentro, come te. Non posso farti questo. Non scegli tu quando io mi devo arrendere. Perché io posso scegliere? Non da solo. Non più ormai. Quel giorno sarà il giorno più felice della nostra vita. Mi hai fatto capire che vuol dire vivere. Che vuol dire casa. Mi fai sentire come se potessi fare tutto. Se potessimo fare tutto. C'è una possibilità su cinque di non farcela. Quattro di farcela. Ogni mattina io mi sveglio e scelgo te. Scelgo noi.